Il nostro viaggio nella regione di Isui è ormai alle porte, ma sono ancora tanti i misteri attorno al titolo Leggende Pokémon Archeus. A questi misteri i leaker cercano di dare una risposta, facendo trapelare presunte informazioni inedite. Andiamo ad analizzarle insieme in questo video. Salve a tutti ragazzi, prima di cominciare volevo ringraziarvi ancora una volta per il grandissimo supporto all'ultimo video e vi chiedo come sempre quindi di lasciare un bel mi piace per supportarmi e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo contenuto. Negli scorsi giorni è stato ufficialmente annunciato Voltorb nella sua variante Isui, uno dei Pokémon di cui tanti avevano ipotizzato una possibile forma alternativa, vista la presenza delle primordiali Pokéball. Il Pokémon Sfera si poteva infatti trovare nell'antica Sinnoh nella combinazione elettro-erba e questo secondo tipo è legato ai materiali di cui erano composte le Pokéball dell'epoca, prevalentemente in legno. L'aspetto del Pokémon non è cambiato tanto rispetto a quello di Voltorb dei giorni nostri, ma ancora una volta non siamo venuti a conoscenza del vero aspetto di questo Pokémon, dato che, come riporta il Pokédex, Voltorb è un Pokémon che si traveste da Pokéball, un po' come Mimikyu si traveste da Pikachu, ed il suo vero aspetto quindi resterà un mistero. Il sito stesso ci dice che anche sbiriciando all'interno della fessura che Voltorb ha sopra la testa per capire cosa ci sia all'interno, non si riesce comunque a vedere nulla, se non oscurità. Pare inoltre che i Voltorb di Isui possano essere trovati in più dimensioni, come si può vedere in questo frame, e non sappiamo se queste dimensioni influenzeranno in qualche modo il Pokémon. Questo però ci conferma quanto avevamo già visto in altri trailer, ovvero il fatto che i Pokémon ad Isui avranno forme differenti, visibili durante il gioco, e non soltanto segnalate all'interno del Pokédex. Considerando che poco prima del suo annuncio il sito ufficiale di leggende è stato invaso dai tre tipi di Ball presenti nel gioco, potrei supporre una linea evolutiva a tre stadi, e quindi Pokéball, Megaball ed Ultraball. Voi come vorreste vedere questa sua evoluzione? Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto, delle forme Isui rivelate finora, qual è quella che preferite? E arriviamo ora ai leak. Come per l'indovinello di Zorua e di Zorwark, anche in questo caso il leak dei famosi indovinelli del Riddler cinese, senza troppe sorprese, pare averci preso. L'immagine della Pokéball di Isui era ovviamente collegata alla variante di Voltorb, e questo dona ancora più credito alla veridicità dei leak. Negli scorsi giorni però hanno iniziato a circolare anche dei nuovi leak, a partire da una serie di informazioni che arrivano, ancora una volta, da CentroLeak. Stando infatti a CentroLeaks, Legende Pokémon Archeus sarà il titolo più lungo della saga. Bisognerà prestare attenzione alle risorse durante la nostra avventura, sarà necessario acquistare spazio aggiuntivo con l'avanzamento del gioco. Se prenderemo tutto quanto, riempiremo il nostro inventario in fretta e non potremo portarci dietro altri oggetti. Dovremo creare gli oggetti per la nostra avventura con altri oggetti, che potremo riperire in diversi luoghi. L'obiettivo finale del gioco sarà la cattura di Archeus e gli Shiny saranno visibili come in Let's Go, anche prima della partenza della battaglia. Il secondo leak, invece, è questo qui. In questa immagine, postata sempre da CentroLeaks, ma di cui non ci riporta la fonte, viene segnalata la presenza in leggende di 7 nuove evoluzioni ed un totale di 17 forme Isui. Questi Pokémon sono in parte differenti da quelli segnalati all'interno dell'indovinello, ed ovviamente anche in questo caso, non capendo bene quale sia la fonte primaria ed il suo grado di credibilità, non è facile arrivare ad una conclusione, anche perché, logicamente, chiunque è sul web può fingersi un leaker. Ritorniamo però indietro al primo leak di cui vi ho parlato. Avrete notato che tutte le informazioni elencate sembrano essere tutte parecchio vaghe o scontate. E analizziamole quindi nel dettaglio. La prima di queste informazioni riporta che il titolo sarà uno dei più lunghi della serie. Considerando il fatto che questo sarà il primo titolo open map, è ovvio che il tempo che impiegheremo per compiere il nostro viaggio ad Isui sarà sicuramente molto di più rispetto a quello degli altri titoli mainline della saga, che avevano percorsi piuttosto lineari e guidati, salvo qualche dungeon. Lo scopo della nostra missione sarà inoltre quello di studiare i Pokémon della regione di Isui e creare il nostro primo Pokédex. Anche in questo caso, quindi, è logico pensare che la longevità del gioco sarà dettata anche da questo, vista la pazienza che dovremo mettere nel catturare tutti i Pokémon. Secondo, terzo e quarto punto possono essere analizzati tutti e tre insieme. Dovremo prestare attenzione alle nostre risorse durante l'avventura, dovremo craftare le nostre Pokéball e avremo bisogno di aumentare lo spazio del nostro zaino. Vista l'impalcatura di Legenda Archeus che attinge in larga misura da Zelda Breath of the Wild, non mi stupiscono queste informazioni. Come in ogni titolo Pokémon, dovremo prestare anche ad Isui attenzione alle nostre risorse, questo anche in virtù del fatto di ambienti di gioco molto più vasti. Impiegheremo quindi molto più tempo per raggiungere i campi base e saremo esposti molto più a lungo. Gli oggetti che potremo poi portarci dietro saranno limitati. Questa informazione era già intuibile dai precedenti trailer. Certo, questi leak sembrerebbero confermarla ed aggiungono il fatto che sarà necessario aumentare lo spazio all'interno dello zaino che potrà essere acquistato. E questo che cosa vi ricorda? Ovviamente Zelda. E se abbiamo detto che Legenda sembra muoversi sulla scia di Zelda, risulta scontato ipotizzare che avremo la stessa identica meccanica. La quinta informazione invece è sugli oggetti che possono essere costruiti tramite altri oggetti e materiali durante la nostra avventura. Questa credo sia l'informazione più ovvia in assoluto. Sempre dai precedenti trailer sappiamo che gli oggetti, come le Poké Ball, andremo a costruirli direttamente e non saranno esclusivamente acquistabili. E di questo abbiamo un artwork dedicato, dove possiamo vedere proprio il processo di creazione degli oggetti. L'obiettivo finale del titolo è catturare Arceus. Questa informazione è talmente tanto vaga ed ovvia da non sorprendermi. Sappiamo già che Arceus sarà la mascotte del titolo e la prima conclusione del titolo che verrebbe in mente a tutti è proprio quella dove andiamo a catturarlo. Dopotutto ad Isui andremo a creare il primo Pokédex della regione e se in questa regione è presente Arceus, dovrà a sua volta farne parte e dovremo quindi catturarlo. Dato che non credo questo accadrà all'inizio della nostra avventura, è ovvio pensare che lo cattureremo verso la fine del gioco e l'informazione del presunto leak risulterebbe quindi corretta. Ed infine, ultima informazione. I Pokémon Shiny saranno visibili, come è accaduto in Let's Go. E questa informazione è quella che più di tutte mi ha fatto sorridere. La transizione di battaglia presente in tutti i giochi Pokémon attualmente conosciuti è sempre stata presente, ma non è presente in Legende Arceus. Quindi i Pokémon Shiny dovranno essere visibili per forza di cose, non essendoci uno stacco con l'inizio della lotta. Devo inoltre darvi un'altra notizia. Questi leak non sembrano soltanto sospetti, ma non sono nemmeno di Central X, ma provengono invece da Nile Goku, presunto Riddler di cui vi ho già parlato nel precedente video, che aveva dato una chiave di lettura all'indovinello del Riddler cinese. Io ovviamente non posso dirvi se questi leak sono reali o no, ma viste le informazioni che riportano, credo piuttosto che ci sia stato un tentativo di travestire informazioni ovvie o già note in modo tale da essere sicuri di averci preso all'uscita dei giochi ed acquisire quindi credibilità. Facendo un giro sul profilo di Riddler Q, ho inoltre notato che ormai sembra essere più che altro un profilo in guerra con Central X, accusato di rubare informazioni senza curarsi troppo di citare le fonti, a tal punto che Riddler Q sta attualmente creando dei tweet con dei leak dichiaratamente fasulli, quindi capirci qualcosa diventa davvero complesso. Direi quindi ritenere per buono soltanto l'indovinello del Riddler cinese e aspettare quale altro Pokémon salterà fuori. Quindi ragazzi fatemi sapere la vostra, io vi lascio tutto quanto nella descrizione, fatevi un giro su questi profili, leggetevi i leak e ditemi se li ritenete credibili o meno. Detto questo, grazie mille per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video.